Dicevo combattere camperando ragazzi no non fa proprio per me no 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 io sono un vero guerriero e attacco tutti quanti faccia a faccia che io sia nudo o che io sia full ferro o full diamond non mi importa io attacco tutti in questo modo e ora dobbiamo un pochettino scappare però perché questo ripeto è full guardatelo guardatelo quanto è Ciao a tutti i miei piccoli lupetti alla vaniglia oggi come avete letto nel titolo di questo video cercheremo di fare l'impossibile ovvero cercheremo di vincere gli skywars completamente nudo gli skywars insane contro tutti i full diamante del gioco già so che siete tutti eccitati all'idea e volete lasciare un bel mi piace e soprattutto condividere questo video con i vostri amici dico bene ragazzi dico proprio bene Adesso mettetevi comodi non mangiate le patatine e guardate il mio video ciao siete pronti ragazzi all'epicità siete o non siete pronti no non vi sento carichi non vi sento carichi abbastanza ragazzi perché oggi andremo a fare una delle challenge più difficili in assoluto e non solo questa è una delle challenge più difficili in assoluto volete sapere per quale motivo è ancora più difficile perché ci troviamo nell'insane mod dove tutti quanti si possono fare full diamond quindi io da completamente nudo Dovrò uccidere i full diamond ragazzi so già cosa state pensando oh mio dio kenda se ci riesci come minimo noi dobbiamo arrivare a 2500 mi piace e lo so ragazzi avete ragionissima avete ragione da vendere questo per esempio lo dobbiamo uccidere adesso quindi non ci provare nemmeno tu pure no no vai via vai via vai via vai via lasciami stare lasciami stare devo che polare ragazzi devo che polare al volo e adesso lo dobbiamo uccidere lo dobbiamo uccidere in qualche modo perché sono completamente nudo ora mi ammazza ora mi ammazza mi ammazza no l'ho ucciso io ok wow ce l'abbiamo fatta devo scappare devo scappare devo scappare devo Troppa gente troppa gente devo continuare a correre devo continuare a correre no 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 ti uccido ti uccido ce l'ho fatta ok ragazzi siamo già a due kills e io sono completamente nudo ricordatevi sono completamente nudo e sto affrontando gente che è praticamente full diamond tre kills L'adrenalina ragazzi si fa sentire oh mio dio allora dobbiamo buttare tutta questa roba purtroppo perché non la possiamo utilizzare assolutamente io so già ragazzi che siete pronti voi a schiacciare il tasso di mi piace lo so lo so vi conosco so che state vedendo un'epicità pazzesca che non vedete mai e state pensando oh mio dio kendall dobbiamo lasciare tantissimi mi piace perché sei sei grandissimo sei il maestro Quello mi ha scritto conserva cosa vuoi che conservi ti devo conservare non lo so il tonno in scatola cosa vuoi che ti conservi ha sbagliato a scrivere il mio nome ovviamente ora se io vengo ucciso da qualcuno che mi butta giù da questo ponte mi arrabbio tantissimo perché sono nudo e non non è giusto non è giusto morire in questo modo Oh mio dio tiriamoci delle pozioni ragazzi perfetto perché dobbiamo tornare assolutamente full vita e dobbiamo utilizzare la stessa erendica tattica di prima quindi continuiamo a frecciare in questo modo fino a quando quello non ha poca vita e no 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 vai via vai via devi morì devi morì devi morì devi morì un cuore c'è un cuore oh mio dio l'ho ucciso no cosa come sono morto Mi ha clinappato Cioè questo L'avevo ucciso ero rimasto un cuore ed è arrivato quello che mi ha clinappato mentre io ero nudo ma come ti permette clinappare uno nudo cioè non ti senti un po' sporco dentro Ce la farà il vostro eroe kendall a vincere un'altra volta una nuova partita vediamo ragazzi lo scoprirete nella prossima no lo scoprirete qua adesso in questo istante Oh 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 guardate guardate com'è oh mio dio che cavolo è successo che cavolo è successo Quelli si sono uccisi io sono arrivato là dietro ho clinappato tutti praticamente oh mio dio non me lo aspettavo minimamente ragazzi che sarebbe accaduto una cosa del genere Allora senza essere stupidi adesso cerchiamo di non cadere perfetto e andiamo di nuovo nella mia isola perché ho tantissima roba da prendermi E se riuscissi a trovare delle bellissime pozioni di regeneration credo che sarebbe fantastico no vabbè abbiamo trovato delle pozioni però di velocità che non sono male Anzi sono molto molto comode soprattutto quando sei comple Me ne vergogno Come cacchio ma ero shiftato Ok ragazzi questa è la volta buona Se ho fortuna di trovare nella prima chest dei blocchi una spada sharpness e non lo so tipo anche una candana pesca Vi assicuro 100% ragazzi 100% grandi successi che vinco questa partita Eh però purtroppo non li ho trovati nella prima chest Però oh 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 signori miei avete visto cos'altro abbiamo trovato E avete visto che mi sembrava che qualcuno mi stesse venendo contro Ho trovato un bellissimo arco ragazzi power 3 che fa un male secondo me della madonna Qua c'è un power 1 qua c'è una spada perfetto e altre frecce ottimo Allora siamo messi molto 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 bene in quanto riguarda per quanto riguarda arco eccetera Abbiamo già ucciso una persona quindi direi che è un ottimo inizio Ora io vorrei anche arrivare al centro in qualche modo perché altrimenti combattere ragazzi camperando Oh mio dio stavo saltando pensavo che ci fosse abbastanza spazio invece mi stavo buttando nel vuoto praticamente Dicevo combattere camperando ragazzi no non fa proprio per me no 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 Io sono un vero guerriero e attacco tutti quanti faccia a faccia Che io sia nudo o che io sia full ferro o full diamond non mi importa Io attacco tutti in questo modo e ora dobbiamo un pochettino scappare però Perché questo ripeto è full Guardatelo guardatelo quanto è Oh mio dio poverino non sono riuscito nemmeno ad attaccarlo una volta con la spada E quell'altro nudo secondo me lo ammazzo con due frecciate Sì no vabbè ne è bastata una a dir la verità Però ne sarebbero dovute servire due se l'avessi voluto uccidere in quell'altro modo Allora guardate questo qui che è messo pure bene si è tirata una pozione di instant Cioè di di regeneration quindi ora rigenererà tantissimo la sua vita E ci andiamo di spada e ho vinto oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio ho vinto Prima partita ragazzi che poi non è la prima partita sto dicendo delle bugie Terza partita da completamente nudo E ho vinto merito o non merito 2500 mi piace Secondo me ne merito E andiamo a fare un'altra dai ragazzi mi sento carico Andiamo a fare un'altra Boys ci troviamo nella stessa identica mappa di prima Quella dove ho fatto tantissime kills epiche Contro tutti i full diamond praticamente E lo so che ora ci saranno nei commenti quelli che mi dicono Ma kendall quello ci aveva soltanto elmetto pantaloni e corpetto in diamond Il resto era in iron il resto ovvero i piedini quindi quindi non vale non era full diamond No io per full diamond intendo che è tipo che è tipo come lui che è tipo un po' stronzo Tipo che vede uno nudo che fa il ponte ovviamente che fa il primo pensiero Oh guarda quello è nudo adesso gli tiro le palle di neve addosso E adesso se riusciamo anche a vincere in questa mappa io sarò contentissimo Abbiamo trovato delle bellissime pozioni di regeneration Cioè una a dir la verità non più di una non l'abbiamo trovata E l'altra invece è una bella fire resistance Buttiamoci Perfetto vediamo se troviamo tipo delle gapple qui Non le abbiamo trovate Non abbiamo assolutamente niente a parte delle uova da tirare in faccia ai nostri avversari Guardate quello stupidino Mi sta cercando È andato nella mia isola perché mi stava cercando Non ci voglio credere Amico ho una notizia per te io sono al centro ma tipo da mezz'ora Allora vediamo se riusciamo a prendere qualcosa di buono da queste chest Per esempio degli elmetti che non posso indossare Degli elmetti in ferro fantastici Però abbiamo trovato adesso delle gapple Gapple che mi saranno molto molto utili verso il mio cammino verso la vittoria Qua c'è uno messo molto molto bene che dobbiamo uccidere in qualche modo E come faccio però non posso Aspettate dov'è la mia pozione Dov'è la mia pozione Non posso che polare Oh sì no ovviamente no Ovvio Sono carico abbastanza ragazzi Mi si sono caricate le batterie E sapete bene che a Kendall quando gli si caricano le batterie Non esiste proprio avversario degno di combattere contro di lui Quindi ora vi faccio vedere se trovassi un arco No ok niente arco Però poco male poco male Andremo allora di spada Perché abbiamo una bellissima spada sharp nessuno Una bellissima canna pesca E delle bellissime uova proprio fresche di giornata Appena raccolte dalla gallina Uuuuh Dalla gallina cocco dè Guardate questo ragazzi Guardate questo Questa ranetta Che si è preso tutte le chest Credo proprio di sì Sì si è proprio preso tutto E allora che fanno noi Vediamo che possiamo fare Tipo quello lì è completamente solo Lì Ora questo gli potrei andare da dietro Ecco in questo modo Lui non si è accorto proprio di niente E iniziamo la massacrare Eh no se ne è accorto Se ne è accorto Se ne è accorto Lasciami stare Lasciami stare Lasciami stare Non sono cibo per fermi E mi viene acclinappare Quell'altro da dietro Mi lasciate stare Oh beh come faccio ad essere ancora vivo Che sta succedendo Com'è possibile che io sia ancora vivo E purtroppo ragazzi Non ho delle pozioni di regeneration Da poter utilizzare Oh mio dio Come cavolo è possibile che io sia ancora vivo Dopo tutte quelle battaglie Guardate questo Ora lo buttiamo giù in qualche modo Cadi giù Esatto Abbiamo fatto una kill Abbiamo fatto una kill ragazzi Siamo riusciti a fare una kill Non si sa come Perché teoricamente io sarei dovuto morire Dopo quella battaglia Cioè è proprio impossibile che io Eh Abbia resistito a tutti quei Quelle botte Dei miei avversari Oh mio dio L'ho ucciso un altro Da completamente nudo ragazzi Senza assolutamente nulla Da poter utilizzare contro di loro Ho solo una canna da pesca E una spara in diamante Solo una canna No 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 Ok Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Wow Per fortuna ragazzi Sono un maestro del parkour E ho fatto questo salto Pazzesco lunghissimo Veramente mi dovrebbero dare La medaglia d'oro Alle olimpiadi Per quel salto Meno uno ancora Ok Quello è stato un pochettino Una kill stronza Perché l'ho cleanappato Praticamente Però ragazzi Conta Conta lo stesso come kill E questo qua Non credo abbia una bella mira Sì infatti Credo Stia mancando completamente Tutte le sue frecce Ciao amico Ciao non hai una bella mira Vero? Non hai una bella mira Non c'è niente purtroppo Nel mio inventario Che posso utilizzare Ma quanta vita ha? Ma secondo me Questo aveva così poca vita Che se ci andavo di spada Lo ammazzavo tranquillamente E invece no E invece no E invece no Oh mio dio Sono di nuovo Un cuore e mezzo Basta Basta Lasciatemi rigenerare Questa vita Che cosa sta succedendo? E siamo in uno contro uno Ragazzi Questa è la battaglia Per la vittoria Quindi se io riesco a uccidere questo Adesso ho vinto la partita E che sta facendo? Non posso nemmeno rigenerare più la vita Ragazzi Perché non ho Non ho il cibo nell'hotbar Mettiamo il cibo Ok Dov'è? Non lo vedo Oh mio dio Mi tremano le mani ragazzi Sta facendo qualcosa Sta scavando qualcosa Quindi sapete cosa? Adesso io vado dall'altra parte completamente Sì 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 Rigenero questa vita Perché ne ho proprio bisogno E facciamo così Ok Ma è possibile che nessuno aveva un arco? Nessuno dei miei nemici? Ti uccido Ti uccido Oh mio dio GG Ho vinto la partita Facendo quattro kills Fantastiche E non si sa come ragazzi Sono riuscito A scappare Con mezzo cuore O un cuore e mezzo Più e più E più volte In situazioni veramente critiche Che mi avrebbero praticamente Ucciso al cento per cento Non lo so Ho fatto delle magie ragazzi In questi Skyworks Ho fatto veramente delle magie E io ovviamente vi invito a lasciare un bel mi piace Per questo video È importantissimo Seguitemi su Twitter Seguitemi su Instagram Condividete questo video con tutti i vostri amici E fategli vedere le proagini Che riesce a fare il vostro capo supremo Kendall Da Kendall è tutto E noi ci vediamo domani E noi ci vediamo domani